La cosa che mi ha fatto soffrire di più nella mia vita è stato il paragone con gli altri. Tutt'ora lo è ogni tanto, ma ho risolto veramente tanto sotto questo aspetto. E sapete come ho fatto? Oggi ve lo spiego. Tutto quello che ho fatto nella vita, in passato, prima di iniziare questo percorso interiore, è stato tutto basato sulla competizione. Ho fatto un nuoto agonistico per 12 anni e essere meglio del tuo vicino di corsia era l'unico motivo per cui la gente ti diceva che sei bravo. Poi iniziando la carriera nella moda, come Mr. World, Mr. World Italia, essere meglio e arrivare primo era l'unica cosa per cui valeva la pena continuare a migliorare. Quindi ti paragoni sempre agli altri. E diciamo che quando poi arrivi nella vita vera e inizi a smettere di essere in questi mondi autocreati, ti accorgi che, cavoli, ma il mio pattern di paragonarmi con gli altri mi sta distruggendo. Cioè io ho veramente sofferto tanto da quando ho iniziato il mio percorso di cura di me e anche semplicemente sui social, il fatto dei numeri, la FOMO, quindi il fatto di utilizzare il telefono e vedere che tutti sui social media postano la versione migliore di sé, il momento, le highlight della loro vita, eccetera. Anche se sai che è tutto finto, perché il mondo sui social è finto, comunque in qualche modo a livello di subconscio ti fa star male, perché tu sei lì nella tua stanza che stai creandoti dopamina istantanea e intanto c'è gente lì fuori che vedi che fa cose. Poi in realtà ti guardi attorno e la gente famosa, non famosa, soldi, non soldi, in realtà sono tutti uguali, identici a te. Alla sera si mettono il pigiama come te e la mattina si lavano i denti come te. Quindi in realtà è tutto veramente, è un qualcosa di particolare che noi pensiamo, esageriamo nella nostra testa. Ma a questo ci arrivo dopo. Quindi dai social e da tutto ci sono veramente stato male. Quando ho iniziato poi il mio percorso di crescita interiore, leggendo, facendo journaling, meditazione, tutte le mie pratiche, le cose di cui vi parlo sempre, psicologia, filosofia, terapia e tutto, a un certo punto sono arrivato a varie conclusioni nella mia vita per poi a capire che non ci sono conclusioni. Ma ho delle cose che mi aiutano veramente tanto con questa situazione e attualmente mi sento che questa cosa che mi ha fatto stare tanto male posso condividerla con voi perché sono sicuro che ci sarà qualcuno là fuori che sta male per questa cosa e questo messaggio, questi messaggi ti torneranno tanto utili. Prima cosa, come ti ho già detto, per noi, generazione Z, la maggior parte del paragone arriva dai social media. Quindi capisci che i social media sono un ambiente a sé. È un mondo che non esiste. È un mondo a sé stante. Quello che accade sui social non è la verità. Anche se le persone ti sembrano felici, di successo, non di successo, ricche, non ricche, famose, non famose, che fanno cose incredibili, apri i social solo con questa consapevolezza che tutto è finto. Se vuoi utilizzarli per uno scopo tuo, io li utilizzo per postare contenuti, cercare di servire nel mio modo, quello che posso fare, lo faccio, ma cerca di consumare meno contenuti così il più possibile. Se ci sono persone, cose che ti fanno star male, smetti di seguirle. Inizia a seguire cose, persone che ti aiutano invece a star meglio. Seconda cosa, tra le cose che mi hanno aiutato tantissimo, è capire veramente, ma non in modo teorico, veramente, che ogni vita è unica. Ma unica, non per finta, è vero, ogni vita è unica, la frase dei cioccolatini perugini. No, guardati attorno, guardati attorno. Ci sono due gemelli in una famiglia, persino i gemelli, uguali, stessa vita, stessa mentalità, stessi genitori, stesso cibo con cui sono cresciuti, stessa casa, hanno vite completamente diverse, hanno idee completamente diverse. Non esiste e non è mai esistita e mai esistirà, esisterà, una vita che sia uguale, identica a un'altra. Nemmeno la tua. Quindi è come cercare di paragonare mele a carne. Non si può, sono due cose completamente diverse. Quindi perde un po' il significato, il senso di per sé già paragonarsi. Seconda cosa, il fatto che ogni persona sia unica, ti dimostra anche che ogni percorso è unico. E quando capisci questa cosa, smetti di essere bloccato. Se sei bloccato per il paragone con gli altri, ti capisco benissimo perché l'ho fatto anch'io per tantissimo tempo. Il problema cos'è? È che il paragone di per sé non è una cosa così malvagia. È un nostro istinto naturale di guardare il vicino di casa e migliorare come specie. E il punto cos'è? È che quando diventa invece un complesso di inferiorità, un complesso di paragone, allora lì inizia un problema perché invece di motivarti ti blocca. E cosa fare in quel senso? Ti senti talmente bloccato perché ti senti una nullità, ti sembra che ci sia quello che va meglio di te, quello che va meglio di te. Ti sembra che tutto quello che hai fatto con fronte agli altri sia piccolissimo con fronte alle montagne di cose che fanno gli altri. Entra, subentra la fumo, fear of missing out, la paura di perderti qualcosa là fuori. Subentrano tante cose che è meglio lasciare stare. E quindi quando capisci che la tua vita è unica, ma quindi anche il tuo percorso è unico, smetti di essere stagnante, smetti di essere bloccato. Perché? Perché invece di rimanere qua e guardare quello che fanno gli altri e dire forse quella è la strada giusta, forse quello che ha fatto lui è la cosa migliore, forse dovrei prendere spunto da lui, forse dovrei fare quello, quello ti blocca. Perché così troverai infinite strade che sembrano meglio di quelle che stai facendo tu ora. E tu dici, sì, ma allora qual è la mia strada? Avere una visione, quindi prendere spunto da qualcuno un'idea di dove vuoi arrivare è ok, ma come ci arrivi non sarà mai uguale a come ci è arrivato qualcun altro e non sarà mai neanche la stessa cosa. Quindi uno può essere l'attore migliore del mondo, ma Will Smith è diventato attore in un modo ed è un tipo di attore. Keanu Reeves può essere l'attore migliore del mondo, ma non è Will Smith e ci è arrivato in modo totalmente diverso. The Rock in un altro modo e così via, è all'infinito. Quindi se continui a cambiare strada e a fare quello che hanno fatto gli altri perché pensi che è strada giusta, non ci arrivi. Perché? Tu mi dirai Marco, ma allora qual è la mia strada? La tua strada non esiste. Non esiste la tua strada. E quando capirai questa cosa e andrai a patti con te stesso per questa cosa, prima lo fai e meglio è. Perché? Perché è la tua strada. Non c'è qualcuno che può aver camminato quella strada prima dita e non esiste ancora. Devi ancora fare quei passi che ti portano a creare quella strada. Deve ancora formarsi quella strada. La tua strada la vedrai esclusivamente al punto della tua morte quando guardi indietro, connetti i puntini all'indietro e vedi cosa hai fatto e cerchi di dare un senso, una narrativa e una storia a tutto ciò. Ma non puoi concentrarti su altre cose o troppo in avanti se non un passo alla volta con quello che hai qui e ora. E qua si collega il terzo, anzi quarto punto mi sembra, che quello che puoi paragonare non è mai la vita, è la situazione di vita. E c'è una grossissima differenza. La vita sei tu, questo testimone, i tuoi sensi, quello che stai guardando in questo momento, la coscienza, la consapevolezza. Tutto il resto è situazione di vita. Quindi la persona che ti sei creato, la tua mente, il tuo passato, il tuo futuro, i tuoi possedimenti, le persone che ami, quello che ti piace, quello che non ti piace, tutto, tutto questo è la tua situazione di vita, è Marco Dei, è il mio personaggio che mi sono creato, la sua storia, questo personaggino che va avanti e che controllo ogni giorno. Ma quello che puoi paragonare non è mai la vita, quindi non è mai esistenziale, è sempre situazione di vita. E la situazione di vita è talmente effimera, è talmente fragile, è talmente impermanente, perché cambia e può cambiare in base a circostanze, fortuna, situazioni, momento storico in cui nasci, geografia, può cambiare per talmente infiniti fattori che non ha senso. Quindi torna sulla vita, sulla vera creazione, qui fuori, sulla vita, e la tua situazione di vita, hai iniziato questa vita senza niente, la finirai senza niente, quindi quando ti accorgi che è un po' come un sogno, un po' come un gioco, la tratti in modo diverso, non in modo meno serio, ma lasci un po' di più andare alla presa. E sei grato alla fine anche per quelle poche o tante avventure che fai nella tua vita, perché comunque sei tu, nessuno può vivere la tua storia, la tua vita, se non tu. Ci sono già altre persone che sono gli altri, ma tu sei tu, prendi il tuo ruolo, la tua responsabilità e fai tu. Anche perché ti accorgi insieme a questa cosa, anche con un po' magari di meditazione, di pratiche, dopo un po' mi sono accorto che alla fine è veramente tutto nella nostra testa. Come dicevo all'inizio, la questione dei social, che ingigantisce, la tua testa ingigantisce le persone per cui stai male, quando ho visto le olimpiadi sono stato male, quando ho visto quelli sono stati male, quando ho visto quelli sono stati male, perché mi paragono. In realtà poi mi sono accorto che, oddio, ma io vedevo quella persona e stavo male perché mi paragonavo e mi sembravo ovunque, ma in realtà è tutto, era un mio bias cognitivo, un mio condizionamento che è perché conoscevo quella persona e quindi la vedevo ovunque. e quindi la mia testa ingigantiva, ogni volta che vedevo una sua foto, un suo video, dicevo wow, guarda come sta andando bene, ma in realtà poi mi sono accorto ma è pieno di gente che fa la sua stessa cosa e gli altri non lo vedono così, la vedo io così. Quindi mi sono accorto, cavoli, quello che la mia mente fa, quello che è la mia situazione di vita, è veramente tutto nella mia testa. E quando capisci questa cosa, smetti di soffrire. E non quando la capisci così. Se in questo momento non stai piangendo davanti a questo schermo, non l'hai ancora capita per davvero. Quello che è il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro, quello che hai, quello che non hai, le persone, le etichette che metti, le conclusioni che hai preso nella tua vita, è tutta una creazione nella tua testa. L'unica cosa vera è qui e ora e tutte quelle cose, persino il tuo personaggio, persino Marco Delia, qui e ora, tutte queste cose qua non ci sono, sono come un sogno. Ci sono ma sono qua. E quindi puoi ingigantirle o farne quello che vuoi. Il problema cos'è? È che non sapendo utilizzare in modo consapevole questo strumento incredibile, questa immaginazione incredibile che è la nostra mente, le utilizziamo per autosabotarci e farci del male. Quindi bisogna imparare un po' prima a uscire dalla mente e poi saperla utilizzare nel modo corretto. Perché come vi ho detto, paragonarsi può anche essere utile in alcuni casi, ma facendolo in modo tale da motivarci e non da autosabotarci. Perché quando esci dalla tua creazione nella tua testa ed esci nella vera creazione qua fuori, ti accorgi che innanzitutto nessuno sa niente. Siamo tutti qua piccoli, su questo pianeta, a livello esistenziale, siamo dei microbi nell'universo infinito che non abbiamo idea del perché siamo qui. Nessuno sa niente, stiamo qua cercando di sopravvivere facendo il massimo che possiamo con quello che abbiamo qui ora e cercare di dare un senso a tutta questa cosa, a sopravvivere al meglio che possiamo, ma in realtà, boh, quindi è veramente tutto questo dramma, questa storia, ce la si è anche letta di noi, stiamo facendo robe tra di noi. Le olimpiadi, queste formichine di chi è più bravo a saltare meglio dell'altro, se ci pensate, per assurdo. Non è un banalizzare, era solo un esempio che volevo per farvi capire il concetto. Che nel grande schema delle cose, fuori dalla nostra mente, tutto è uguale, tutto è unito, non è niente più ingigantito o più piccolo dell'altro. E quindi quello che nella tua testa è ingigantito, ti accorgi che è nella tua testa. Che anche persone famose, ricche o tutto quello che vuoi, quando poi ti guardi attorno a te, anche loro la sera si lavano i denti come te, alla mattina si alzano e sono stanchi come te, sono persone uguali a te. E qua arriva l'ultimo punto, che mi ha aiutato molto, è quello di capire che queste persone, queste formichine su questo pianeta blu, non sono qua per farti del male o competere con te. Stanno cercando di dare il meglio con quello che hanno, con le informazioni che hanno. Quindi non c'è una competizione, non sono rivali, non sono nemici, ma vedi lì come persone sulla tua stessa barca, sono compagni di avventura, sono compagni di squadra, siamo qua tutti per la prima volta a vivere la vita per la prima volta. Quindi cerchiamo di capire insieme come andare avanti, migliorare l'umanità insieme. Se qualcuno fa qualcosa e ha un certo successo nella sua situazione di vita, nei suoi dintorni, non ti sta togliendo niente a te. Anzi, se hai qualcuno nella tua cerchia, puoi anche beneficiarne, puoi anche te migliorare un po'. Più persone attorno a te stanno bene, è più probabile che anche te stai bene. Quindi invece di occuparci la mente con il togliere le altre persone, cercare di ricavare, scappare, avere tutti come nemici, concentrarsi sul dare, concentrarsi sul servire. Siamo tutti sulla stessa barca. Quando inizi a dare, inizia un circolo per cui le cose comunque passano ancora da te. Siamo partiti in questo mondo, in questa vita, senza niente, finiremo senza niente. Tutto quello che c'è di mezzo alla fine che conta è solo l'intensità e la profondità con cui abbiamo vissuto questa vita, l'esperienza che abbiamo fatto. Quindi si di passaggio, non lasciare che le cose si blocchino su di te. E vedrai che le cose anche così, invece che concentrarsi sull'accumulare, ma concentrarsi sul dare, sull'uscire della tua testa e lasciare che qualcosa di più grande passi tramite te. Vedrai che le cose arrivano quando devono arrivare. Quello che ti appartiene ti arriva. Il tuo ruolo è quello e solo te puoi viverlo. E capisci anche magari il perché stai male per quella cosa, per quell'obiettivo che vuoi raggiungere e cerca di capire magari se è veramente un qualcosa che vuoi raggiungere o stai cercando validazione dagli altri, stai cercando di piacere agli altri. In quel caso ti lascio un altro video qui in descrizione da dargli un'occhiata. Fatemi sapere cosa ci pensate, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Grazie ragazzi.